Tutti i nudi vengono al pettine e anche l'amministratore delegato di Arcelor Mittal, la dottoressa Morselli, si è contraddetta. Infatti ha detto che se il veto di commercializzare i prodotti dovesse protrarsi oltre il 3 aprile, così come stabilito dal prefetto, si vedrebbe costretta a mettere in stand by, in buona sostanza, lo stabilimento mettendo appunto i forni al minimo. Dunque, e qui casca l'assino come si suol dire, a questo punto la Morselli ha affermato che i forni possono essere messi al minimo. Non è un'ipotesi impossibile come invece sosteneva precedentemente. E parliamo di questa lettera che la Morselli ha inviato al Premier e ai vari ministri del nostro governo. Sì, oggi in videoconferenza con Sua Eccellenza il Prefetto, gli abbiamo da prima mostrato e poi inviato questa lettera che la Morselli il 26 di marzo ha inviato a Conte, al ministro Gualtieri dell'economia e a Patuanelli, in cui lei da un lato mette il carico da 90 sul governo e sul prefetto dicendo se non mi fa commercializzare il prodotto dopo il 3, io metto i forni in stand by, usa proprio questo termine. Dall'altro però, come dire, la famosa parolina magica stand by, quello che noi stiamo sostenendo dall'inizio di marzo, cioè la messa in sicurezza dei forni, che vuol dire stand by, con il minimo tecnico del personale. Infatti lei fa questo tipo di minaccia dicendo, guarda, altrimenti metterò i forni in stand by e metterò le persone che non mi servono a salvaguarda impianti in cassa integrazione. Quello che praticamente sta chiedendo tutto il sindacato da oltre 20 giorni. L'abbiamo fatto notare questa incongruenza, anche perché loro negano, e stanno negando da quasi un mese, che c'era la possibilità di abbassare ulteriormente la produzione e quindi hanno parlato che per una questione anche e soprattutto di sicurezza impiantistica era necessario avere un battente di 5.500 persone e che sotto la produzione che stiamo facendo, che è intorno alle 8.500-9.000 tonnellate di chissà giorno, non si poteva andare. In realtà la Morselli, come dire, con questa lettera smentisce un po' tutto. Noi abbiamo chiesto oggi al prefetto di prendere coscienza di ciò e di decidere, come dire, alla massima tranquillità, ma partendo dal presupposto che stavolta confortare la tesi del sindacato è la stessa Morselli. A questo punto ci si domanda cosa farà il prefetto, perché se prima il prefetto pensava sulla scorta di quello che diceva la Morselli, che non si possono mettere gli impianti al minimo, ora invece sa che gli impianti si possono mettere al minimo. Sì, in effetti sa, perché lo afferma la Morselli stessa, che in pratica poi tra l'altro sbugiarda le relazioni tecniche fatte dai suoi uomini in primis, ma anche e soprattutto dal comandante dei vigili del fuoco che poi aveva confermato quel tipo di scenario prospettato da ArcelorMittal, cioè con 5.500 lavoratori minimo. Noi l'abbiamo ribadito al prefetto oggi. Io spero che sulla scorta di questo il prefetto possa scegliere la soluzione migliore che è quella che noi abbiamo indicato, perché ciò ci metterebbe nelle condizioni di stare tranquilli e di lasciare tranquillamente le persone a casa senza vivere ogni giorno con il rischio e il pericolo di far scoppiare un focolaio all'interno di quella fabbrica. Per concludere Rizzo, che impressione ha avuto sentendo il prefetto in videoconferenza? Una persona comunque provata, era molto pensierosa, questa è l'impressione che ha avuto, anche perché la decisione che deve prendere non è una delle più semplici. Da un lato c'è una pressione probabilmente anche da parte di una parte del governo rispetto a tutta la questione ArcelorMittal, la faccenda, è chiaro, io lo dico così come l'abbiamo pensato dall'inizio, probabilmente Arcelor nella sua logica in cui la produzione viene prima di tutto, sta sfruttando la questione Covid anche per disimpegnarsi probabilmente anche prima rispetto a novembre. A noi sembra una forzatura gratuita quella di Arcelor in questo momento, confermata tra l'altro da quella lettera che la Morselli. Io spero che il prefetto, lo ribadisco per la terza volta, stavolta butti il cuore oltre l'ostacolo e decida per il bene e la salute di tutti quanti perché non si può giocare con queste cose, è quello che rimproveriamo poi alla fine ad Arcelor, non puoi dire per un mese non lo posso fare e poi con una lettera minacciare di farlo a seguito del fatto che non ti stanno facendo vendere il prodotto, quindi ci aspettiamo che il prefetto sia conseguenziale da questo punto di vista.